Sono un problema importante in Puglia, come nel resto d'Italia e anche in molti paesi europei. Non sono il problema principale, sicuramente un problema ad alto impatto sociale. Con un piano di abbattimento di sattesa concordato in sede regionale, si è deciso di ottenere e chiedere agli operatori delle ore aggiuntive con cui effettuare prestazioni in più. L'abbiamo fatto anche qui, nella sesta provincia, nella nostra ASL. Il piano, lo studio, è durato circa due o tre settimane. La scorsa settimana abbiamo avuto anche l'avallo dei sindacati e da oggi siamo praticamente operativi. Si lavorerà sabato, domenica e nelle ore notturne? In alcune agende sì, in altre no. Andria oggi parte già con le sedute pomeridiane aggiuntive, parte anche con sedute notturne fino alle 23. So se dedicasi per Canosa, più in là si accoderanno poi tutti gli altri ospedali. Su alcune agende ambulatoriali, su alcune prestazioni, riusciamo anche a fare il notturne, anche il sabato e la domenica. In altre non ce la facciamo proprio per una questione di carenza del personale che poteva dare adesione. Ci sono delle specialità in cui riusciamo ad abbattere anche dell'80% la lista d'attesa. In altri casi invece riusciremo ad abbatterle in maniera sensibile, ma non secondo quanto vorremmo, perché manca proprio la tipologia di professionalità medica. Penso per esempio agli ecodoppler e tronchi sovraortici, che non tutti i medici sono in grado di fare, comunque sia ne abbiamo pochi in casa. Oppure penso alle procedure endoscopiche, conoscopie o gastroscopie, che richiedono un tempo di esecuzione lungo, 50 minuti, e non è che abbiamo tantissimi endoscopisti qui in azienda, e non tanti se ne trovano anche fuori azienda. Grazie a tutti.